Inaugurati nuovi impianti sportivi a disposizione del quartiere di San Vito all'interno dell'area della scuola media Domenico Chelini in via delle Cornacchie. L'intervento, realizzato dall'amministrazione comunale insieme a ERP per un totale di 135.000 euro, rientra nel progetto complessivo dei quartieri social San Vito, che hanno l'obiettivo di qualificare uno dei quartieri più popolosi e vissuti della città. L'area complessiva degli impianti sportivi è di circa 2.100 metri quadri, 850 per il campo polivalente, ideato anche per poter giocare a baskin, il basket inclusivo, e oltre 500 per la pista dello skatepark. Lo scopo era quello di tutare la zona di uno spazio aggregativo di tipo sportivo all'interno di un'area protetta. L'idea progettuale dello skatepark è dell'associazione No Comply. Il coinvolgimento delle associazioni del territorio è fondamentale affinché questi impianti siano utilizzati il più possibile nella maniera corretta. E poi, voglio dire, naturalmente, il coinvolgimento delle associazioni porta a un ulteriore, a un moltiplicatore, a livello appunto di quartiere e di realtà locali. I lavori saranno completati dall'impianto di illuminazione. Prima si procederà a illuminare il percorso di accesso e successivamente il campo polivalente e la pista dello skatepark. Per chi utilizza l'impianto sportivo saranno a disposizione gli spogliatoi e i servizi igienici presenti al primo piano dell'edificio scolastico.